Un saluto agli amici dell'Hockey Breganze, siamo con Massimo Barbieri, è appena terminata la partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie 1 Hockey Pista 2016-17, Correggio a sorpresa ha vinto a Breganze per 4 a 2 e si può dire in serie di commento che il Correggio che aveva infranto un tabù, cioè vincere fuori casa due settimane fa in quel di Sarzana, si è ripetuto peraltro meritatamente con il Breganze, un'impressione dal mister Emiliano Per quanto riguarda i record, già ero contentissimo di essere stato il primo allenatore a Correggio a vincere una gara esterna in Serie 1 nella storia del Correggio Hockey, questa sera usciamo un attimo da quelli che sono i record, ma per noi fare punti era importantissimo perché abbiamo bisogno di autostima, è una squadra molto giovane, io ho tanta fiducia in questi ragazzi, però è chiaro che si devono abituare alla categoria 9-11, giocavano in A2 l'anno scorso, vincere a Breganze è un motivo di prestigio e senza altro accrescerà la loro autostima Complimenti vivissimi, una squadra, il Correggio, basata su due elementi esperti come Malagoli e Bonucchi, una serie di prospetti assolutamente importanti dal portiere Enrico, Scucato, Maniero e poi questo Portoghese della Castanera di cui si possono sicuramente tessere le loti per le notevoli qualità di palleggio e di pattinaggio che ha dimostrato anche questa sera Sì, in tanti mi conoscono come allenatore nel settore giovanile, io sto cercando di portare le stesse cose anche in A1, la tecnica, tecnica di pattinaggio, la velocità e soprattutto la mentalità, riuscire a vincere a Breganze ci voleva tanta serenità, sapevamo che loro erano più forti di noi, sarebbero stati più potenti, più energici, noi avevamo bisogno di restare tranquilli mentalmente, il resto lo fa la tecnica con la quale noi lavoriamo quotidianamente. Per Breganze può aver inciso il notevole dispegno di energie profuso sabato scorso in quel di Lodi dove da sotto per 0-3 la tua vita ha una rimonta pazzesca che stava per fruttare un colpaccio, cioè giocare in modo così ravvicinato può inflorire nella preparazione e nella gestione dei match secondo te? Assolutamente sì, ho guardato almeno dieci volte in settimana la partita del Breganze e a me era piaciuto tantissimo, avevo guardato anche il Breganze col Forte dei Malmi, secondo me è una squadra che sta giocando benissimo e è chiaro che sono arrivati scarichi fisicamente, probabilmente anche mentalmente perché quando una squadra fa punti con le più importanti formazioni del campionato puoi incontrare il Correggio che è una neopromossa, devo dire che probabilmente il mister del Breganze non dovrà rimprovenare nulla ai suoi giocatori perché hanno dato tutto però è chiaro che un po' di stanchezza sia mentale che fisica l'avevano pagata. E comunque è giusto dire che questo è uno sport fatto di episodi e bisogna essere capaci di sfruttarli quando capitano, Correggio lo ha fatto e quindi questo spiega il meritato successo colto qui a Breganze. Complimenti ancora a Massimo Barbieri e in bocca al lupo per il proseguo di una stagione che adesso si annuncia veramente importante anche fuori casa. Crepe il lupo, ah senz'altro adesso voglio continuare, voglio continuare su questa strada, forse avevo proprio bisogno di arrivare a questo punto per trovare ulteriore serenità, io sono fatto così, voglio andare avanti, voglio andare avanti. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.